ciao fragoline e ciao fragolini allora volevo questo praticamente un video parlato per parlare un po con voi perché volevo spiegarvi cos'è successo in questi in queste settimane in questi giorni non so per chi si è accorto non ho più pubblicato da due settimane praticamente quasi nove giorni non ho pubblicato su instagram di solito io faccio sempre le storie ogni giorno che io esco faccio qualcosa pubblico sempre qualcosa che faccio anche su instagram per cui non so se vi siete accorti specialmente chi mi segue da tanto se vi siete accorti che io sono praticamente sparita dai social allora il video che avete visto l'ultimo uscito era quello di quattro tre settimane fa per cui era vecchio calcolate no di più di tre settimane l'ho fatto il 3 di aprile adesso è il 17 di aprile sto registrando questo video per cui calcolate che quello lì era un video vecchio che avevo fatto quello dovevo pubblicarlo prima di pasqua e invece è successo l'ira di dio e io adesso vi spiego che che cosa è successo allora spiego per il semplice fatto scusate ma devo prendere il cavalletto e poi alla fine non ho preso un po' una postazione così tanto per fare il video veloce allora io sono stata assente per un bel po' non ho pubblicato video non ho pubblicato niente sui social e come come avete letto dal titolo non è uno scherzo e che non è neanche a chiappa visualizzazioni ma perché allora youtube mi vuole eliminare il canale io dico questo perché è probabile che non avrò più il mio canale per cui si cancellerà ma non perché io voglio che si cancella perché dopo nove anni ho fatto una fatica per avere 3000 iscritti e in più ho fatto una fatica che voi come state diciamo facendo adesso mi seguite perché vi piace quello che faccio vi piace diciamo i miei video e allora è stato difficile diciamo fare i video e tantomeno dopo nove anni di canale sapere che youtube mi vuole eliminare il canale dico questo perché il 3 anzi il 7 di aprile è successo che ho ricevuto un secondo avvertimento il primo avvertimento era perché mi hanno segnalato il canale un video che adesso mi ricordo mi sembra che era uguale c'è in poche parole ho avuto due segnalazioni da youtube perché una persona o anche due mi hanno segnalato dicendo che io ho rubato una clip che loro hanno fatto anzi che lui ha fatto e per cui ho due segnalazioni la terza segnalazione se allora se se vanno via i 90 giorni che entro 90 giorni non succede un altro avvertimento allora io elimino cioè youtube mi elimina tutti questi avvertimenti che ho ricevuto invece se io prima di 90 giorni ricevo un terzo avvertimento il mio canale lo cancellano per cui non ci sarò più su youtube per cui dato che io ho questi due avvertimenti perché mi hanno segnalato un video che io ho fatto otto anni fa questo ragazzo più o meno mi ha segnato questo video allora questo video l'ho fatto io perché io non vado a copiare i video degli altri poi prima di tutto non so perché youtube ha detto che il 20 per cento è anche il suo che è lui che mi ha diciamo rubato le clip non dico il video non dico niente perché giustamente adesso d'oggi in poi devo stare attenta fino a prima dei tre mesi della scadenza devo stare attenta a quello che pubblico quello che faccio vedere e quello che dico per cui sono a rischio molto a rischio io ho fatto questo video otto anni fa invece questo questa persona qua ha pochissimi iscritti e ha preso la mia clip e dopo un anno la messa sul suo canale poi mi ha segnalato il video tipo adesso nel 2023 dopo otto anni sette anni più o meno e dicendo che il 20 per cento è il suo video ma non era così per cui questa è stata la mia prima segnalazione di quello che è successo poi ho avuto un'altra segnalazione da youtube dicendo che in un mio video sempre sette otto anni fa non avevo messo sulle impostazioni che questo video destinato che non era destinato ai bambini allora questo video c'era mio fratello che era piccolino cioè piccolino aveva 15 anni più o meno per cui capite che le regole di youtube tutto il resto è molto cambiato confronto di nove anni fa quando io ho aperto il canale io non mi sono accorta che questo video non l'avevo selezionato come diciamo non destinato ai bambini c'era ovviamente mio fratello e giustamente youtube me l'ha segnalato e questo è stato il secondo avvertimento adesso io ho controllato tutti i video però dato che non mi sento tanto sicura tutti i video vecchi che io ho fatto li metterò tutti in privato sperando che anche se li metto in privato spero che youtube non me li segnala o tantomeno le persone non me le segnalano per cui i video vecchi che sono ad esempio con mio fratello con mia cugina che sono video dove mostro qualcosa o anche delle clip che ho fatto forse che non vanno bene li metterò tutte tutte private l'unici video che potrò essere sicura sono questi qua nuovi che ho fatto da questi diciamo tre anni più o meno per cui ho per cioè devo per forza fare questa cosa qua è un lavoraccio perché calcolate che sono adesso mi ricordo quanti video sul canale sui novecento forse quasi mille video sul canale per cui io adesso piano piano mi dovrò mettere al lavoro e bloccare tutti questi video perché sennò appunto mi potrà segnalare o youtube o certa gente che non lo so se la prende con me senza motivo perché non è la prima volta in più ho saputo che mi rubano i video mi hanno rubato un bel po' di video facendo credere che sono io ci sono tante cose diciamo successe che io ho scoperto e che voglio stare attenta per cui ogni volta che faccio i video devo cercare di mettere qualche diciamo foto così almeno so che non possono rubarmi diciamo i video ma tanto lo faranno lo stesso per cui da adesso in poi dovrò stare molto attenta sia anche nei vlog sia con la musica sia quello che vi mostro e anche ovviamente mostrando cioè non posso più mostrare di solito io quando faccio i vlog ogni tanto capita che mostro anche i bambini eccetera questa volta quando vado in giro non potrò più fare appunto mostrare altra gente oppure le canzoni o tutte le altre cose che giustamente non cioè adesso è dura perché io non voglio appunto perdere il canale io ci tengo molto io sono stata quasi nove giorni sono stata male vabbè a parte la salute che in questi giorni in queste settimane non è delle migliori per cui diciamo che anche su quello sto facendo un po' di fatica però vabbè questo poi ve lo spiegherò non è un altro video però sono stata male quando mi hanno bloccato il canale e io non potevo più pubblicare i video che in teoria ho fatto prima di Pasqua per cui i video che adesso vi metterò non vi non metterò più tra video a settimana ma per il momento dato che ne ho tanti e son vecchi vi metterò ogni ogni settimana 5 video perché sono rimasta indietro ho tutti i video registrati poi dato che YouTube appunto mi ha bloccato i video e non potevo più pubblicare da ormai più o meno quasi due settimane allora quei video lì tipo le uova di Pasqua Pasqua e tutte le altre cose sono rimaste fermi e non ho potuto diciamo pubblicare i video che ho già registrato per cui adesso dopo questo video vedete la vedete un bel po' di video eh già registrati di marzo anche molto prima di di Pasqua per cui scusate se metterò tanti video ma eh dovrò recuperare e ovviamente sarò tutto controllato eh l'unica cosa che volevo dirvi volevo avvisarvi anche di questa cosa che eh dato che sono agitata mhm che non so quanta percentuale posso avere sul fatto che youtube non mi cancellerà il mio canale dato che ci tengo veramente tanto infatti nove giorni quasi due settimane sono rimasta un po' di cacca mhm quando mi hanno bloccato proprio tutto eh non potevo neanche avvisare a voi che mi seguite solo su youtube perché instagram non ce l'ha nessuno e per chi mi segue solo su youtube non potevo avvisarvi come mai io non pubblico da nove giorni però vabbè ehm diciamo che questa è stata la situazione ehm dato che eh io ho pensato di eh fare un altro nuovo canale per sicurezza ho creato un nuovo canale per sicurezza perché appunto l'agitazione è tanta ehm sono molto diciamo ancora molto più nervosa se se mi elimino il mio canale e allora ho deciso di ehm creare un altro nuovo canale per crescere insieme a voi e questa volta c'è da rifare tutto da capo ma proprio tutto da capo non è facile io spero che mi aiutate spero che vi spero che ehm voi che mi seguite vi 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 scrivete sul secondo canale sul nuovo secondo canale adesso vi metterò qua la foto del nuovo canale che anche quello piano piano devo cercare di migliorare la grafica il nome per cui per il momento resterà questo ehm per cui il nuovo canale è fragolina trattino basso real trattino basso official ehm nel primo canale cioè nel secondo canale ho fatto un video dove ehm pubblicherò prima di questo o dopo non mi ricordo non lo so ehm dove vi spiego ehm il nome del canale perché l'ho scelto eccetera per cui ehm se mi sostenete anche sul secondo canale e ehm mi fate crescere anche su lì dato che ci ho messo nove anni per avere 3.000 iscritti ovviamente grazie a voi ehm spero che anche sul secondo canale vi spostate anche sul secondo e piano 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 il canale cresce anche il secondo per cui spero che ehm rimanete con me e che ehm mi aiutate a far crescere anche questo canale ehm comunque vi lascerò sempre in tutti i video il nuovo canale per il momento sarà quello il nome del nuovo canale metterò anche lì un po' di video adesso vediamo se metterli uguali ehm non lo so perché ehm appunto avendo paura che mi cancellano ehm se cancelleranno il canale sarà una una tosta sarà molto tosta a a ricominciare tutto da capo però io credo in voi spero che mi aiutate ehm a crescere e e niente io vi ho avvisato anche su questa cosa del nuovo canale per sicurezza ne ho creato un altro così almeno sapete che eh io ci sono sempre continuerò sempre fino a quando non avrò la nausea di dire ok basta non voglio più continuare su youtube e niente per cui mh saranno diversi i video perché ho già in mente qualche video interessante qualche video che può interessare aiutare le persone sia maschi che femmine per cui niente ho creato questo canale e spero che anche su questo piano piano inizieremo a crescere eh spero anche un po' più veloce perché non è facile adesso vabbè c'è solo un iscritto perché cioè sono io perché giustamente l'ho appena creato eh devo ancora modificare le foto e tutto il resto capire un po' i video ma niente ho creato anche questo secondo canale per cui io vi aspetto anche sul canale nuovo mi raccomando e incrociamo le dita e speriamo che prima che prima di luglio non mi segnaleranno il canale o tantomeno non mi cancelleranno il questo canale qua per cui speriamo e incrociamo le dita eh se per caso non mi trovate su questo canale che non vedete più sto canale andate su quello nuovo mh vi dico già solo che la mia email la trovate sempre qua sotto in tutti i video se volete potete anche seguirmi su instagram o su l'altro social che è non so se si può dire tic tic io dico così così almeno non so se si può dire questa questo social per cui seguitemi in questi social qui se non volete ovviamente perdere il mio contatto perché a me piace anche parlare con voi infatti molte persone parlano con me in privato su instagram o tramite email mi scrivete eh so che mh abbiamo fatto anche una nuova amicizia con molte persone che mi seguono da tanti anni per cui ringrazio a queste persone che mi seguono da tanti anni e che eh mi scrivono anche privatamente per tutto e non solo per youtube e niente per cui io adesso chiudo qua questo video questo è il succo più o meno in breve di quello che è successo e spero che youtube farà il bravo e prima di luglio non ci saranno questi queste cose sperando che c'è ancora il canale lo spero tanto perché io ci tengo molto e non lo so se si è capito non so se molte persone sanno però eh anzi vi dico anche che questo canale l'ho creato dopo un anno più o meno dopo un anno che io ho preso fiocco fiocco il mio coniglio in poche parole e io ho continuato a fare i video ma c'era lui lui presente per cui da 9 anni che ho il canale e ormai è quasi tra 4 giorni mi sembro 3 giorni lui fa il compleanno per modo di dire infatti farò anche qua riprenderò il un video su di lui che farà 9 anni e questi 9 anni sono ehm quando io ho anche creato insieme il canale quando ho preso lui e per cui volevo anche diciamo ci sono tanti ricordi eh sia su questo canale che su quello che ho fatto e e spero di continuare sempre di più senza che youtube appunto mi ferma e mi dice ok basta ti cancello il canale cioè spero che questa cosa non succede ehm perché davvero poi ci rimango veramente male sono stata 9 giorni ehm proprio male infatti come avete notato non sto più pubblicando su instagram perché appunto sono rimasta male per youtube non non potendo pubblicare niente e allora da adesso in poi non so neanche se riuscirò a stare più su instagram ma secondo me starò più su youtube che su instagram per cui non lo so comunque niente spero prima che questo video dura tanto io vi saluto e noi ci vediamo e noi ci vediamo al prossimo video perché tanto adesso vi toccherà vedere tutti i video vecchi che ho registrato un mese fa per colpa di certe persone che poi mi hanno bloccato tutto vabbè detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video grazie ancora per tutti quelli che mi seguono e per chi mi sostiene e per quelli che lo faranno ancora per cui grazie davvero ciao e al prossimo video grazie